andiamo vedi Maria come compare la vita spiega qui la pozza primordiale una volta la terra era fatta c'erano i vulcani che ruttavano l'atmosfera non era respirabile e a un certo punto si fommò l'acqua e quindi quest'acqua in una pozza primordiale cominciarono a nascere i primi organismi direi vedi qua vedi ci sono le bottanghere un po' la vita si evolve un po' lo vedi un po' le piante 150 minuti anni fa vedi Mena come questo è come nel film hai visto Mena attenzione ci sono veramente un po' così ah gli alligatori ci sono ma però e se quella esce fuori è insomma solo su come lui dove la mettiamo? dove sono? alligatore alligatore dove? ah eccolo lì chi è un legno alligatore? bella eh? è bella l'alligatore ut�� sa qua sotto un altro ma un altro uno come fantasia